Grande Pagani si schiera all'opposizione ma tra i banchi della minoranza finora siede solo Luisa Paolillo. Hanno deciso di prendere le distanze dalla dura nota fatta recapitare al presidente del Consiglio Comunale Antonio Donato, dal leader della Civica Vincenzo Paolillo, infatti i consiglieri Goffredo Iacquinandi e Pietro Sessa. Noi di Grande Pagani dove io faccio il capogruppo avevamo chiesto in un comunicato delle risposte al sindaco di Pagani per cambiare marcia perché dopo oltre due anni ancora c'erano molti problemi non risolti. Questa era la nostra richiesta. Vi ha concordata questa uscita con Paolillo? Vi siete visti, sentiti? Siete ancora un unico gruppo? Allora noi ci sentiamo però credo che le cose debbano essere decise insieme, quando uscire e come uscire. Nel momento comunque c'è una spaccatura con Luisa Paolillo che ammette di aver aderito alla linea dettata da Vincenzo Paolillo con ormai il posizionamento in minoranza e lei e Iacquinandi che invece non avete ancora sciolto la riserva. Noi continuiamo a vorere bene la città, il nostro contributo ci sarà sempre, il mio in prima persona, non voglio che questa amministrazione, non voglio ostacolare l'operato di questa amministrazione ma voglio contribuire. Se ce lo consente il sindaco andiamo avanti altrimenti... Lei potrebbe dichiararsi quindi indipendente e non essere più di grande Pagani? Al momento sono di grande Pagani il capogruppo però poi vediamo più in là. Sulla vicenda si esprime anche il sindaco Salvatore Bottone. A me dispiace per la consigliere Paolillo veramente perché è una che è stata una bellissima risorsa di questa amministrazione, ha lavorato insieme al gruppo e hanno dato un forte sostegno alla maggioranza. C'è un dialogo con tutti i consiglieri che ritengono di voler continuare l'esperienza amministrativa con me, con la mia maggioranza, gli aguinanti e lo stesso Sessa stanno ponendo delle giuste rivendicazioni nei rispetti degli atti amministrativi di quelli che possono essere gli interventi sul territorio e io credo che insieme possiamo trovare qualche soluzione positiva per la loro parte politica così come per quanto riguarda l'aspetto amministrativo.